Ciao, benvenuto a questo nuovo videopost ancora dedicato al concetto di controllo e di rimozione. In questo videopost voglio analizzare oggi un altro concetto che è un po' gregario di questi altri due, che è appunto il concetto di manipolazione. Allora, noi abbiamo visto nei post precedenti che la compassione viene attuata laddove ci sia uno scambio di informazioni tra due soggetti che entrano in interazione e che si, diciamo, legano, si intrecciano tra di loro attivando quello che è il canale empatico. Abbiamo detto anche che all'interno di questo canale empatico in cui si sviluppa appunto questo intreccio, l'azione informativa di trasmissione dell'informazione da un soggetto all'altro viene definita appunto simpatica e quindi è proprio l'attività che fa l'essere di profondo di trasmissione delle sue informazioni coscienziali all'altro essere affinché possa confrontarle ed integrarle all'interno della propria coscienza. Che cosa succede nella manipolazione? Nella manipolazione noi abbiamo invece un rapporto antipatico, ossia un rapporto in cui l'azione dell'essere viene bloccata da un filtro che è il filtro appunto del giudizio. Questo filtro fa sì che si crei una specie di muro di cemento tra i due soggetti che impedisce l'interscambio informativo. Ma per quale motivo avviene questa manipolazione? Avviene perché il soggetto che sta agendo e che sta entrando in comunicazione con un altro non ha nessuna intenzione di accettare il riflesso di sé attraverso l'altro perché potrebbe modificare il suo status mentale. La mente si troverebbe costretta ad accogliere questa informazione e da elaborarla in maniera differente trasmettendola appunto al proprio essere profondo che in quel modo potrebbe attivare come abbiamo detto prima il canale empatico. Quindi questo canale viene troncato, il soggetto non vuole entrare in interazione profonda, empatica con l'altra e quindi cerca di controllarlo. Lo controlla attraverso la manipolazione. Che cosa significa questo punto manipolazione? Tieniamo presente che noi siamo esseri creativi, siamo esseri che laddove interscambiamo e ci nutriamo di questo interscambio informativo, perché siamo esseri relazionali, abbiamo bisogno di scambiare informazioni per integrare la nostra conoscenza, la comprensione delle informazioni altrui, del riflesso che hanno gli altri di noi, perché gli altri fanno parte del nostro universo, perché gli altri siamo noi. Sono diverse potenzialità esplicate dal nostro essere profondo che ci si manifestano nella virtualità affinché noi possiamo specchiarci. Questo specchio non si può attivare laddove si ha un rapporto antipatico. Che cosa significa antipatico? Significa che noi ci troviamo in una condizione, nella condizione manipolativa di non essere, cioè la creazione che potrebbe sembrare legata alla parola manipolazione, perché quando si manipola qualcosa si trasforma in qualcosa di diverso. Quindi c'è comunque un atto creativo nella manipolazione, solo che la manipolazione viene vissuta nella virtualità, cioè ci si chiude all'interno della realtà virtuale, non tenendo conto della propria sfera profonda che entra in relazione, che dovrebbe entrare in interazione con gli altri esseri umani. Quindi ci si chiude in se stessi e si diventa appunto egoisti, egocentrici. Questa cosa fa sì che il centro del proprio universo diventa il centro egoico, ma l'universo però viene racchiuso soltanto all'universo materiale, all'universo virtuale, cioè l'universo dell'illusione, e si subisce il fascino e l'incantesimo di questa virtualità. Per cui la manipolazione porta a questo accrescimento egoico e al potenziamento dell'ego stesso, che a quel punto ha solo la finalità di potenziarsi, che è appunto il potere, l'avere il potere sugli altri. La cosa simpatica da un certo punto di vista è che questo potere è così fine a se stesso, che poiché non scatta il feedback empatico, quindi non si ha un'alimentazione della propria interiorità, del proprio inconscio, del proprio essere profondo, che non riesce ad esprimersi come dovrebbe, ci si sente soli al mondo. L'uomo di potere è isolato, vive di se stesso, con se stesso come centro, ma in una realtà che non esiste. Vive solo di un'apparenza, quindi se non fa il suo essere profondo nella realtà virtuale, se non agisce, se non applica quelle che sono le sue potenzialità e le manifesta, e se non utilizza il canale empatico per esprimersi, ci troviamo in una condizione di non essere, e quindi di solitudine. Questa solitudine, questo isolamento dell'uomo manipolativo, dell'uomo di controllo, lo porta a essere sempre più diviso, sempre più disgregato. E allora che cosa succede? Si ha una frammentazione ulteriore della propria personalità, perché questa personalità deve gestire le centomila facce di se stesso che va a combattere. L'uomo di potere vuole convincere della sua posizione, o comunque l'uomo che esercita la manipolazione, vuole convincere tutti gli specchi che ha ragione, non vuole capire quelli che sono i riflessi del suo essere profondo attraverso gli altri, non vuole comprendere e chi non vuole comprendere è come se non fosse mai nato a questa vita, fosse inesistente esattamente come la realtà virtuale. La realtà virtuale esiste in quanto esiste l'essere profondo che si manifesta nella realtà virtuale, perché quello che è vero è l'essere profondo. Siamo noi stessi e la nostra interiorità che è vera. Io parlo di interiorità, ma teniamo conto che questo velo, questa dualità tra la realtà virtuale e la realtà reale non esiste, perché è tutto esperienza della coscienza, solo che questa coscienza non può avere consapevolezza di sé finché non si manifesta, perché anche se è una, può conoscere se stesso solo attraverso la divisione, perché solo così per differenza può comprendersi. Ora, se non avviene questo processo, avviene il processo contrario, quello di disintegrazione, ossia di non azione, ossia di non essere. È come se non si è mai esistiti, è come se non si è dotati di un essere profondo. La vita perde senso e cominciano ad acquisire invece senso delle cose molto più efimere, finte, false, che sono appunto le divisioni, i contrasti, la dualità, che si manifesta con il famoso divide-timpera. Io creo questo muro e comando, perché io sono a quel punto al centro del mio universo virtuale, comando, lo manipolo, ma manipolo solo l'universo virtuale, senza tener conto che questa manipolazione, non essendo integrazione, è distruttiva, è denutritiva. E quindi moriamo a noi stessi. Ciao, al prossimo posto. Al prossimo posto